Questo video è realizzato in collaborazione con la pagina Facebook Serie TV & Soap di cui trovate il link in descrizione. Endless Love, Cara Sedda. Anticipazioni di giovedì 14 marzo 2024. La conversazione lasciata in sospeso nel pomeriggio continua quella sera stessa. Kemal esprime dubbi sulle capacità di Nyan di adattarsi a una vita più umile e lontana da Istanbul. Tuttavia, Nyan, con una forza d'animo inaspettata, gli assicura che il loro amore può superare ogni ostacolo. Lei andrà con lui, e insieme costruiranno la loro vita. Il legame tra loro si intensifica, culminando in una notte di passione, un primo sigillo sul loro impegno reciproco. Dopo, in un gesto simbolico, decidono di tatuarsi sul polso il segno dell'infinito, un emblema del loro amore eterno. Intanto, la serata prende una piega diversa per Emir e Ozan, che si trovano in compagnia di due ragazze. Mentre Ozan si apparta con una di esse, Emir parla con l'altra, sottolineando l'importanza di portare a termine il loro piano senza intoppi. La serata di Kemal e Nyan volge al termine, e tornando a casa, Nyan decide di telefonare a suo fratello, desiderosa di condividere con lui la felicità della serata. Al telefono, però, risponde Emir. Il tono di allerta nella sua voce fa presagire che qualcosa di grave è accaduto. Nyan, preoccupata, chiede di parlare con Ozan, ed è il fratello stesso a riberarle una verità sconvolgente. Lui ha ucciso una persona. Emir, calcolatore, invita Nyan a recarsi immediatamente a casa sua per offrire conforto a Ozan. Mentre si avvia verso la casa di Emir, il cuore di Nyan è avvolto da un velo di terrore. Al contrario, Kemal è al settimo cielo, circondato dalla sua famiglia, a cui annuncia di aver incontrato l'amore della sua vita, con l'intenzione di chiederle di diventare sua moglie. La notizia è accolta con un'esplosione di gioia. È un momento di pura felicità nella casa di Kemal. Tuttavia, la situazione a casa di Emir si dipana in una situazione paradossale per Nyan, un vortice in cui mai avrebbe pensato di trovarsi. Suo fratello è a pezzi, e sono già stati informati tutti di quanto successo. Infatti, a casa di Emir ci sono sia il padre di lui che i genitori di Nyan. Galip, con una calma rassicurante, le promette che lui e suo figlio Emir si faranno carico della situazione. Ma Nyan intuisce che il prezzo da pagare sarà elevato. La mattina dopo, Kemal, al settimo cielo, sceglie con cura l'anello di fidanzamento per Nyan insieme a un suo amico. Ha organizzato un incontro al Molo, con l'intento di farle la proposta. Quando lei arriva, è visibilmente turbata, con il viso segnato dalle lacrime, e l'anima stretta in una morsa di angoscia. Kemal, completamente all'oscuro del dramma che lei sta vivendo, con tutto il suo entusiasmo, le chiede di sposarlo. Ma Nyan, piangendo, declina la proposta, sostenendo che non possono sposarsi. In lacrime, spiega a Kemal che tra di loro ci sono differenze insormontabili, rivelando la dolorosa consapevolezza che, nonostante le promesse e i sogni condivisi, esistono barriere che nemmeno il loro amore può superare. Kemal rimane pietrificato, il silenzio lo avvolge mentre l'anima si frantuma in mille pezzi. Incapace di pronunciare una sola parola, può solo osservarla mentre si allontana, con il cuore straziato dall'illusione di un amore che credeva potesse vincere ogni ostacolo. Mentre Kemal fa ritorno al negozio di suo padre, trova Vildan, la madre di Nyan, che inveisce contro di lui. Vildan è lì per comunicare alla famiglia di Kemal che il giovane non deve più avvicinarsi a Nyan, poiché lei è ora promessa sposa a Emir. Kemal interviene appena in tempo per interrompere Vildan, ma l'accaduto lascia suo padre Usain profondamente turbato, tanto che l'uomo ha un mancamento, e si accascia a terra. Quattro mesi dopo, troviamo Kemal immerso nel suo lavoro alla miniera di Zonguldak. Sembra essere diventato un ingegnere rispettato dai colleghi e dai suoi subordinati, dedicato e particolarmente attento alla sicurezza delle miniere. Durante uno dei consueti controlli di manutenzione, una grave fuoriuscita di gas provoca un'esplosione devastante. La miniera di Zonguldak, una delle più importanti della Turchia, attira immediatamente l'attenzione dei media nazionali. La notizia dell'incidente arriva a Usain e Nyan tramite un servizio televisivo. Entrambi sono profondamente scossi dall'accaduto, e il loro primo pensiero corre all'amato Kemal, che al momento dell'incidente, si trovava ancora all'interno della miniera. Nonostante il pericolo, Kemal riesce non solo a mettersi in salvo, ma anche a salvare diversi suoi colleghi. Poi, riesce a contattare la sua famiglia per tranquillizzarli sul suo stato, mentre Nyan è preda dell'angoscia per la sorte di Kemal. Sarà Zeynep, la sorella minore del ragazzo, a chiamare Nyan per rassicurarla. Kemal è salvo e sta bene. Poco dopo aver ricevuto la notizia, Nyan viene contattata da Emir, suo marito, che con poco garbole intima di prepararsi per una cena d'affari, alla quale sarà costretta ad accompagnarlo. Nel frattempo, Kemal, nel corso dell'incidente alla miniera, ha compiuto un atto eroico, salvando la vita ad uno dei suoi superiori, il quale riveste anche il ruolo di dirigente della miniera. L'uomo, che già lo ammirava per la professionalità e la dedizione che Kemal ha sempre mostrato nel suo lavoro, si trova ora in debito con lui. In segno di gratitudine e riconoscimento, gli propone di diventare il suo socio, e in futuro, ereditare la gestione della miniera. Kemal, profondamente grato e commosso per questa incredibile opportunità, accetta con entusiasmo, e comincia a prepararsi ad affrontare questa nuova sfida. Trascorre un anno, e Kemal ha accumulato sia ricchezza che prestigio, frutto della sua inesauribile determinazione e impeccabile professionalità. Ora, il suo capo e mentore, il signor Aki, gli affida un nuovo compito. Kemal dovrà andare ad Istanbul, per partecipare ad una gara d'appalto, e gestire la negoziazione del contratto per un importante impianto energetico. Tuttavia, sfogliando l'elenco dei partecipanti, il suo sguardo si ferma su un nome che avrebbe preferito dimenticare. Emir, l'uomo che ha sposato Nian. Di fronte a questa scoperta, Kemal si trova costretto a rifiutare l'incarico affidatogli dal signor Aki. Intanto, Nian vive una realtà familiare complessa e soffocante. Lei ed Emir condividono una casa con i genitori di lei e il fratello Ozan, segnato profondamente dall'omicidio avvenuto ormai cinque anni prima, ed è precipitato in una profonda depressione. Il matrimonio tra Nian ed Emir, un tempo oggetto di un'intensa lotta, si è raffreddato fino a diventare un deserto emotivo. Emir, che tanto aveva desiderato sposare Nian, ora sembra aver perso qualsiasi interesse per lei e per la sua famiglia. Non vi è più traccia di considerazione o affetto, lasciando Nian a vivere in uno stato di perpetua rassegnazione. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.